Ciao Annalisa. Ciao. Dove siamo? In una campagna semplice? Sì, c'è niente di che. Ma solo massi, il cielo blu con le nuvole bianche, una vecchia pagliara scherrata, ma niente di entusiasmante. Guarda, 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 guarda. Cosa, 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 cosa? Vov! Che posto è questo? Eh boh, ti rendevina. Siamo nel Talento. Questa è la serpentina che porta dal cielo all'euca. Brutta, eh? Brutto mare, eh? Fa un saluto a Radio Venere? No, a Radio Venere. Ciao a tutti. Si vede dove sono? Ciao. Ciao.